Blockchain è l'interfaccia alla scrittura del registro contabile unico del sistema Bitcoin. Ne è un po' l'anima, nel senso che qualsiasi Bitcoin esiste solo e unicamente sulla blockchain. È il libro contabile dove esistono tutti i Bitcoin e tutte le transazioni, cioè lo spostamento di questi Bitcoin da un indirizzo ad un altro, in realtà da uno script ad un altro. Perché Bitcoin è il primo esperimento riuscito di una valuta mondiale che è permissionless, trustless e censorship resistant. Cioè, cosa significa? Che non hai nessun bisogno di alcuna permessa o autorizzazione da parte di nessun ente per poterla utilizzare. Non hai bisogno di avere fiducia in alcun ente o istituzione per poterla utilizzare. E nessun ente o istituzione al mondo può impedirti di utilizzare i tuoi soldi, la tua valuta. Nel 2011 ho visto un proclama di un'associazione di hacker famosa, si chiamava Anonymous, in cui in un suo proclama dichiarava che avrebbe attaccato i computer di alcuni governi e alla fine c'era citato un indirizzo Bitcoin. Allora sono andato su Wikipedia e ho letto che cos'era e mi sono appassionato. Ho passato gli anni successivi a documentarmi e a viaggiare per il mondo, a cercare di conoscere la gente che ci stava sviluppando sopra e sono finito qui a Milano, che comunque è blockchain lab e lo ritengo il centro di eccellenza in Italia per questo tipo di tecnologie. Lo blockchain lab colma il gap conoscitivo tra la comunità degli sviluppatori e delle start-up che cercano di lavorare con i Bitcoin e con le altre criptovalute che sono nate dallo stesso disegno, diciamo, e l'industria in generale, ma specialmente quella finanziaria, che è incuriosita da questo mondo, ma che non ha le adeguate conoscenze tecniche per comprenderla a fondo e che rischia di prendere dei binari morti o di malinterpretare quelli che sono gli utilizzi della blockchain e la tecnologia del Bitcoin rischiando di fare degli errori abbastanza grossi. secondo noi, a nostro avviso, cerchiamo di motivare il perché dovrebbero prendere alcune scelte strategiche piuttosto che altre, in quanto siamo a contatto con le persone che davvero manovrano il codice e cercano nuovi sviluppi nella tecnologia. auspicabilmente è quello di superare i due limiti fondamentali del Bitcoin oggi uno è la scalabilità, cioè la capacità di adeguare la capacità transattiva alle esigenze di un'utenza crescente nel mondo e la fungibilità, cioè migliorare il fatto che un Bitcoin ricevuto è un Bitcoin ricevuto a prescindere dalla fonte da cui arriva. Quest'ultima soprattutto necessità è abbastanza controversa ma è assolutamente necessaria per una valuta che si intenda come mondiale. È controversa perché viviamo in un mondo in cui le istituzioni finanziarie, governative e anche le istituzioni private cercano di avere il controllo sui flussi di denaro e il Bitcoin si pone come un ostacolo a questo disegno poiché cerca invece di difendere a tutti i costi la privacy dell'utente. In realtà cerca di difendere la privacy dell'utente per motivi esclusivamente funzionali perché non è possibile avere un controllo AML a livello mondiale istantaneo anche perché le varie leggi AML dipendono dai regimi a cui è sottoposto il paese in cui chi riceve i soldi abita, risiede diciamo e quindi bisognerebbe avere un coordinamento delle legislazioni AML a livello mondiale e bisognerebbe che non esistessero dei regimi che applicano la censura alle tue transazioni finanziarie per fini politici. Grazie a tutti.